Ciao a tutti e benvenuti nel mio canale. In questo video vi mostro come realizzare una mascherina per Halloween decorata come una zucca. Durante il video vi insegnerò due metodi semplici per attaccare e rimuovere le decorazioni, così potrete usare la mascherina non solo il giorno di Halloween ma anche per tutto l'anno. Bene, iniziamo! Per realizzare questa mascherina avrete bisogno di una striscia di cotone leggero alta 20 cm e lunga 80, filo dello stesso colore, un pezzetto di feltro di 10x15 cm con cui faremo naso e bocca della zucca, carta modello della mascherina e delle decorazioni che trovate scaricabili in descrizione, 50 cm di nastro elastico per le bande laterali, potete sceglierne uno più fino o uno più largo, fil di ferro per far aderire la mascherina al naso. Io qui ho usato quelli che vengono venduti assieme ai sacchetti di nylon da cucina ma va bene anche un fil di ferro da giardinaggio o qualsiasi altra cosa abbiate in casa. Per finire vi servirà la classica attrezzatura da cucito, quindi spilli, forbicine per tagliare i fili, forbici da tessuto e gessetto da sarti. Iniziamo a tagliare la stoffa, come potete vedere io qui ho messo il tessuto in doppio, la cimosa è su questo lato. Prima di tutto dobbiamo tagliare due strati della nostra mascherina esterna che è il carta modello che troverete in descrizione che ha il lato dalle orecchie con il margine di due centimetri e mezzo. Successivamente dovremo tagliare lo stesso cartamodello altri due pezzi per fare la fodera solo che gli toglieremo questo margine. Vi consiglio di fare due tacchette in corrispondenza di queste riga. Per tagliare i due strati di fodera rigiriamo in dentro il margine di due centimetri e mezzo e tagliamo a filo del cartamodello. Bene, ora che abbiamo tagliato la stoffa ci ritroviamo con due strati esterni e due per la fodera. Quello che andremo a fare ora è cucire lungo queste due linee. Faremo una cucitura a 0,5 e poi andremo a fare delle piccole tacchettine nel margine di cucitura per fare in modo che si giri più facilmente. Ora dovrete fare nel margine di cucitura delle piccole tacchettine senza arrivare alla cucitura, vi fermate un pelo prima. Questo aiuterà ora a rigirare il tessuto. Quello che dovete fare è con le dita schiacciare tutto il margine verso un lato. Ora fate una cucitura distante un millimetro dalla cucitura appena fatta dal lato dove sotto c'è il margine in modo da tenerlo schiacciato. Quello che dovreste avere ora sono entrambi i cartamodelli con una cucitura come vedete a filo da un lato, sul retro il margine con le tacchettine e la cucitura che lo tiene fermo. Ora dobbiamo tagliare una striscia di tessuto in sbieco che ci servirà per inserire il ferretto del naso. Pieghiamo la stoffa di 45 gradi e tagliamo questa striscia sulla diagonale. La facciamo lunga 15 centimetri e alta 2. Mi raccomando però che il tessuto è in doppio quindi la striscia finita è di 4 centimetri. Ora pieghiamo e stiriamo mezzo centimetro su entrambi i lati corti dopodiché pieghiamo a metà il lato lungo e stiriamo anche quello. Facciamo una cucitura dritta sui due lati corti a 2 millimetri dal bordo. Ricordatevi sempre di fare dei punti indietro all'inizio e alla fine della cucitura in modo che non scuccia. quello che dovrete fare ora è allineare il lato aperto del rettangolo con il lato dritto cioè questo qui qui sopra del pezzo di fodera e spillarli assieme qui su mettendoli a pari. Il risultato finito dovrebbe essere questo. Ora quel che dobbiamo fare è cucire lungo il lato qui sotto, cucire la fodera e questo rettangolino assieme. La cucitura sarà circa 2 millimetri dal fondo. Allora quel che sto facendo ora è andare a spillare il sopra e il sotto con i due lati dritti interni, questa è la mia fodera rovescio e qui all'esterno della mascherina rovescio, li andrò a spillare qui sopra e qui sotto per andarli poi a cucire a 5 millimetri da entrambi i lati. Qui quando arrivo in fondo e c'è questo pezzo mi fermo dove finisce la fodera. La tacchettina che ho fatto all'inizio mi torna utile ora perché dovrò far coinciderle questa tacchettina con la fine della fodera. Rigiriamo ora la mascherina al dritto e stiriamo appiattendo le due cuciture appena fatte. Ora quello che dovremmo fare è cucire sopra e sotto a 1-2 millimetri in modo da tenere ferma la stiratura che abbiamo appena fatto. Ora rigiriamo in dentro i due margini esterni, pieghiamo prima mezzo centimetro e poi 1,3 centimetri e spilliamo. Quello che andremo a fare ora è cucire una cucitura dritta qui e una qua giù a 2 millimetri da questo bordino in modo da poi avere il nostro canale per mettere l'elastico per le orecchie. Così è come viene facciamo la stessa cosa dall'altro lato. Ora dobbiamo prendere il nostro elastico tagliare 20 centimetri per orecchio quindi 20 e 20. La misura dipende può variare per una donna circa dai 15 ai 20 22. Vi consiglio comunque di fare una prova. Quello che ora noi faremo è tagliare 20 e 20 e poi lo chiuderemo con un nodo. Magari non fatelo troppo stretto all'inizio in modo che se non è la misura giusta fate ancora tempo a tagliare un po' e ad adattarlo alla vostra misura. Ora facciamo passare l'elastico attraverso il canale e uniamo le due estremità con un nodo ben stretto che poi nasconderemo dentro al canale. Infine facciamo rientrare il nodo dentro al canale in modo che resti nascosto. step finale è mettere il ferretto e farlo passare qui dentro quindi dai lati aperti. Ora ciò che manca è la decorazione e iniziamo a tagliare il feltro. Quel che dobbiamo fare è prendere il nostro pezzetto di panolenci o feltro, ci piazziamo i nostri due cartamodelli, spigliamo e andiamo a tagliare a filo del cartamodello. ora andremo ad attaccare naso e bocca della zucca vi spiego due metodi semplici che vi permetteranno di poter poi rimuovere facilmente le decorazioni. Quindi nella mascherina nera le ho attaccate con il nastro biadesivo è il metodo più semplice e veloce l'ho tagliato della stessa forma delle decorazioni e poi le ho applicate la mascherina. Nella mascherina arancione invece ho deciso di attaccarle con dei piccoli punti a mano messi in queste posizioni. bene la nostra mascherina è pronta se vi fa piacere potete mandarmi le foto delle vostre mascherine realizzate mandatemele su instagram e le pubblicherò nelle mie stories. Se vi è piaciuto questo video mettete un like e iscrivetevi al canale pubblicherò altri video tipo questo ma anche e soprattutto video tutorial di cucito e cartamodello in cui vi spiegherò come realizzare e da zero degli abiti. Bene ciao a tutti e ci vediamo al prossimo video